Noi veniamo dalla classe operaia, il nostro ribellarsi è stato noi riusciremo a non dover lavorare in fabbrica ma a fare una cosa che ci piace per vivere. Diciamo io sono un po' come gli scienziati che ricercano per trovare sempre il meglio e questo diciamo dopo che ci siamo ritrovati, dopo che gli ho fatto ascoltare non so quante basi ad Axe ho detto adesso è il momento di rimetterci insieme, perciò siamo ripartiti bene, stiamo lavorando un album. Chi va avanti per 15-20 anni ancora a fare il discorso commerciale, underground e non realizza poi che le due cose sono complementari e uno dice oh a me piace questa roba qua, io faccio questa, ma non per questo devo odiare a morte come se mi avesse stuprato la madre questo qua, no? Secondo me è marketing, vende dire che non vendi. Tutto questo per dire che il nostro nome nasce da un errore e guardando la nostra storia non poteva esserci spiegazione migliore, cioè che noi siamo fondamentalmente un errore. Questo è un momento mitologico ragazzi, intervista delle magazine per il canale di youtube con l'articolo 31. The Walking Dead. Mitologico mi dà di passato remotissimo però. Eh ma anche di cosa che rimane per il futuro, la mitologia o qualcosa che plantumiamo le altre. C'è anche dell'archeologia all'interno. Beh effettivamente per chi non le ha vissute sono cose mitiche oggi, cioè per chi è appassionato e pensa insomma da L o quel momento lì. Tra l'altro per accentuare ancora questo effetto macchina del tempo e capsule del tempo c'è poi qualche numero di L, facciamo vedere subito che vi riguarda. Immagino le stronzate che diceva di quel termista. Però partiamo dal presente, singolo appena pubblicato, riunione ormai super annunciata, date dei vecchi di merda alla nostra generazione. Diciamo che nella prima strofa penso sia spiegata abbastanza bene, dice vorrei togliere internet agli ultimi quarantenni che amano i gattini, che odiano i clandestini, che risolvono i complotti ma sbagliano i congiuntivi. Quindi non è che dico tutti, sono rimasto un po' deluso dal fatto che la nostra generazione, che viene chiamata boomer, ma in realtà la generazione X, generazione X, sia caduta, almeno alcuni di questa generazione, siano caduti nella trappola di dire era meglio prima. Cosa che non pensavo, pensavo che la nostra generazione sarebbe invecchata meglio, almeno i presupposti erano quelli. Non è andato esattamente così. Cioè, a me piace questo concetto di continua ribellione e di continuo portare avanti un ideale che è poi quello che vi ha anche messi insieme e fondati, no? C'è un po' più di riot, come all'inizio. Però gli interlocutori una volta erano i vecchi di quella generazione, adesso sono i nostri coetanei. Si vede un po' che c'è quella tipologia di fallimento anche nel messaggio, no? Sì, ma ogni generazione ha fallito, la mia generazione ha perso. Ogni generazione ha fallito perché non è riuscita a cambiare il mondo. Quindi forse siamo proprio, ma anche magari grazie ai social, nella prima volta che storicamente i vecchi se la prendono con i giovani per come sta andando il mondo. Ovviamente io non è che sono un sostenitore del politicamente corretto che sta uscendo dalle università americane, penso che anche quello sia una forma di fascismo. Ma in realtà però non posso di certo sostenere chi non ha risolto nessuna problematica e adesso imputa ai giovani la colpa delle problematiche che ci sono. Quindi in teoria bisognerebbe se non altro al posto di guardare il cantiere come fanno gli umarel mettersi a dare una mano. E non ad esempio prendere per il culo i ragazzi che scioperano il venerdì perché è per il clima o Greta Thunberg. Anche io posso dire non essere d'accordo con Greta Thunberg che fa cadere sul cittadino tutta la responsabilità che in realtà invece del sistema dei governi o dell'industria. Però almeno qualcosa loro fanno. Noi abbiamo accettato più o meno le cose così come erano, no? Certo. Ci salva comunque la musica, l'hip hop, quel concetto che c'è sotto, no? Sì, la ribellione degli articoli 31 se adesso devo pensarci è stato il ribellarsi alla nostra classe dove eravamo stati... Noi veniamo dalla classe operaia. Il nostro ribellarsi è stato noi riusciremo a non dover lavorare in fabbrica ma a fare una cosa che ci piace per vivere. E questa è già stata una rivoluzione per chi ha il nostro background. Non avevamo una coscienza che ci permettesse di pensare a rivoluzioni di massa. È stata, per sottolinearla con una frase di Vasco, egoista certo, perché no? Me l'ha insegnato tu, no? Vasco almeno è stata parte importante della mia formazione e quindi se non altro far vedere ai ragazzi che puoi creare un mercato dove non c'è, puoi crearti artigianalmente un tuo percorso di vita penso sia stata una piccola rivoluzione. Assolutamente. E musicalmente Jed c'è? Musicalmente ho sempre amato spaziare in quello che è la mia ricerca musicale ed è sempre un'evoluzione perché comunque diciamo io sono un po' come gli scienziati che ricercano per trovare sempre il meglio. E questo diciamo dopo che ci siamo ritrovati, dopo che gli ho fatto ascoltare non so quante basi ad Axe, ha detto adesso è il momento di rimetterci insieme. Perciò siamo ripartiti bene, stiamo lavorando un album, infatti adesso, ben finisco questa intervista, non vedo l'ora di correre in studio perché sto producendo delle cosine che mi stanno gasando personalmente. Perciò siamo su una buona strada e la ricerca è continua e l'evoluzione è la stessa. Cioè no, aspetta, la ragazza è la stessa e l'evoluzione è continua. Eh sì, anche l'Alzheimer. Anche l'Alzheimer. Però c'è anche l'idea che musicalmente riprendi un discorso che è quello dell'hip hop classico ma anche con una punta di pausa, qualcosa di molto più scansonato. No, a me piacciono questi due livelli, il testo di Axe, tosto, il tuo beat coinvolgente, anche da ballare, catchy da quel punto di vista lì, pur rimanendo in un genere, certo. Guarda, ma in quello che stiamo facendo c'è un po' di tutto, troverai contaminazioni rock, pop, hip hop, c'è veramente di tutto. Comunque la musica, la musica che ho sempre ascoltato la rigiro a modo mio fondamentalmente, ecco. Ok, allora è il momento del primo giro di Cimeli, no? Tra l'altro stavi parlando di contaminazioni dei generi, prima ho letto tre righe tre di una dichiarazione di Axe a questa intervista su una L del 94, di autunno del 94. Wow, giusto l'altro ieri. Trent'anni fa, ventinove adesso. Jaxe dice c'è il rock, il reggae, la salsa, l'R&B, ci siamo voluti confrontare con tutti questi generi per vedere cosa riuscivamo a fare e a me sembra che il risultato sia positivo. La salsa, la salsa. Quando cazzo vuoi? Forse il sugo era. Forse il sugo era. L'ho fatto trent'anni dopo il pezzo. Che sai come è rifatto. Ma giusto perché questa intervista è eccezionale in tutti gli effetti, Sid, che atmosfera c'era quando avete fatto questo numero di L del 94? Questa era la seconda se non mi ricordo male e avevamo già, allora avevano già fatto un po' il botto col primo disco, nella prima, nell'altro numero che abbiamo fatto nel 93, quindi trent'anni fa, c'era stato un po' l'esordio e mi ricordo che eravate un po' titubanti e magari chissà se funziona o meno, quindi era che era questo qua che stiamo inquadrando adesso. E' un po' più selvaggia. Ma io ho visto tutte le cose, vabbè finisci poi la dico. Io sono convinto di questa cosa, che chi va avanti per 15-20 anni ancora a fare il discorso commerciale, underground e non realizza poi che le due cose sono complementari, uno dice oh a me piace questa roba qua, io faccio questa, ma non per questo devo odiare a morte come se mi avesse stuprato la madre questo qua. Secondo me è marketing, vende dire che non vendi, praticamente se io non riesco, perché non mi piaccio, perché proprio non ce la faccio ad occupare quel tassello lì, allora io faccio, do il prodotto a tutti quelli che sono scontenti che tu abbia quel successo. E quindi è un'altra forma di marketing. No, la cosa che veramente quando appunto diciamo la scena si rivolto contro di noi, questi integralisti chiamiamoli, la cosa pazzesca è che quando andavamo le prime volte nei primi anni 90 a New York incontravamo dei grossi esponenti della scena hip hop americana e non solo. Magari ci trovavamo in studio con loro e ci facevano vedere solo quello che era la copertina o ci facevano sentire, cioè già la copertina dicevano no vedi questa copertina così perché deve colpire, cioè c'era business, cioè facevano business, capisci? E per loro erano i loro idoli, quelli underground, capito? Perciò è rinchiudersi in una scatola secondo me, ecco perché noi o io musicalmente sin dall'inizio ho cercato sempre di sperimentare, di tirare fuori e di non troppo prendere quello che facevano gli americani, campionando robe italiane, anche su campionato robe americane comunque, però ho cercato sempre di fare quella cosa tra virgolette senza fare troppo yo-yo o l'afroamericano, quella aggressività, cioè noi eravamo incazzati quanto eravamo goliardici in quello che facevamo fondamentalmente, però rimanendo sempre noi stessi. Già sto facendo riferimento una volta, ci siamo trovati alla Tommy Boy mentre i Grave D. Guts stavano mettendo, decidendo la copertina dell'album, io non so come cazzo è ma noi abbiamo partecipato a quella riunione, perché non lo so, però noi eravamo lì con i Grave D. Guts mentre sceglievano la copertina dell'album, che era Prince Paul, Risa, mi ricordo, sì, eravamo lì, boh, e ci hanno fatto partecipare a questa cosa, ci chiedevano cosa ne pensavamo, e lì avevamo capito che quello che qui veniva interpretato come ribellione, era anche marketing, nel senso se io mi metto qui e faccio più brutto, è un po' come oggi, oggi questa cosa la capiscono, no? Cioè faccio la copertina, dove faccio la coda più transgressiva, faccio vedere, che cazzo ne so, bevo l'aline, mi faccio una tipa che è vestita svestita, e poso con la macchina mentre stiro una vecchietta sulle strisce. Cioè, quello era marketing, e lo era anche allora, noi qui lo interpretavamo come una totale ribellione. Allora lì, noi abbiamo sentito in questa riunione, quello che si riferiva a Jed, no, questa foto facciamo più paura, questa vende di più. Quindi, cioè, noi che venivamo dall'Italia, dove in realtà bisogna, cioè, chi faceva le foto con le facce coperte, perché in realtà si vergognava della sua faccia, perché c'era la faccia da babbo, no? E allora dico, mi copro la faccia così sono al core, e siamo tornati dicendo, ragazzi, ma a me ne sa che qua non avete capito un cazzo. Cioè, e mi ricordo che ne abbiamo parlato di sta cosa con le riunioni, che mica, se io penso che si facevano le riunioni fra esponenti del rap italiano, ma ti ricordi? Certo, il sit-in, praticamente. Il sit-in, per vedere dove sta andando la coda, a me c'è il sangue dal naso, che penso. Vabbè, ma sono stati i momenti anche... Di merda! Di merda! Che palle! Tutto serve, io sono del parere che tutto serve nella vita. Allora, mi ricordo una riunione, adesso non dico i partecipanti, questa è la gente che si incazza ancora oggi, però avevamo in un centro sociale, e c'era questa riunione dove si decidevano le sorti del pop mondiale, e c'erano vari esponenti della scena italiana, più Africa Bambata. Che l'hanno anche pagato per essere lì. Oh, aspetta, Africa Bambata, ma io e te avevamo già fatto i pezzi di successo, e facevamo le serate in discoteca. Africa Bambata faceva gesso. Africa Bambata era in giro con un pezzo che si chiamava Puppunani, ed era prodotto da dei, non so, di Treviso, la gente di Treviso, Tecno, e praticamente era qua perché doveva fare le serate nei locali, però arrotondato, andando anche a fare questa tavola arrotonda sulle sorti dell'hip hop mondiale, no? E effettivamente, ragazzi, cioè, era molto fantoziano, cioè, c'è questa epoca, ne parlo spesso con alcuni, anche qua per un... Sì, un odio quasi gratuito, un odio quasi gratuito, sì. Ne parlo con alcuni rapper con cui sono amico di quell'epoca lì, gente che poi ha avuto successo, abbiamo ribattezzato, tutta quella che, gran parte di quella che oggi viene chiamata la Golden Age, invece con l'era dello sfiga rap. Noi lo chiamavamo lo sfiga rap, non nel senso di sfortuna, ma proprio che rimbalzava la figa, cioè, che era, cioè, se tu eri una ragazza, quando vedete, ti si asciugava completamente, nel momento che tu ascoltavi, andavi a una festa, e ti rendeva impotente, non so come si dice l'impotenza per una ragazza, però era così, capito? Cioè, era un po' come per noi guardare Twilight, cioè, era un po' quella cosa lì. Questo è uno dei motivi che mi ha portato poi ad allontanarvi in alcuni anni. Lui ha avuto il rigetto più totale, io ne ho sofferto moltissimo, perché comunque io vengo dal muretto, cioè, comunque, avevo tutto un mio storico, e trovarmi tutta quella gente, che erano molti, erano anche i miei amici, a sputarmi alle spalle. Ricordiamo ai nuovi che questi stamparono i volantini, boicottati gli articoli 31, questi chiamarono AL per dirgli di non farci la copertina, facendo brutto, con minacce e robe del genere. E infatti una copertina nostra di AL è saltata, perché tutta la scena gli ha detto, voi non la fate e non la fanno. Ma tu pensa che all'inizio, cioè, il primo album, Strade di Città, bene o male, quando giravamo nei locali o interviste, io parlavo della scena che era difficile. Ma noi dicevamo Fischi a Venerdì Rap. Facevamo, cioè, comunque, lottavamo contro i giornalisti, perché non sapevano cosa fosse l'hip hop, cioè, dovevi spiegargli tutto, e poi, per farglielo capire, aiutavamo, poi quando facevamo One Two, Venerdì Rap a One Two, mettevamo i dischi, cioè, comunque, aiutavamo. Sì, ma non ci stiamo giustificando, perché poi sembra che loro sono i cattivi e noi siamo i buoni. Invece, in realtà, noi siamo partiti da un concetto, allora, devo spiegargliela bene. Per fortuna, io, a differenza sua, non mi sono formato al muretto. Io mi sono formato in discoteca, non sapendo che esisteva una scena italiana. Quindi, ascoltavo il rap, che sentivo per radio, che mettevano alcuni DJ, e mi confrontavo col pubblico delle discoteche di fine anni Ottanta. Quindi, quella lì è stata una cosa che mi è servita molto per capire dove volevo arrivare. Poi, quando ho conosciuto Vladi, che l'ho conosciuto in discoteca, mi ha presentato Jed, sono entrato in contatto con la scena milanese. E da lì mi sono innamorato, perché la gente, rispetto a me, che mi ero formato da solo, i rapper, quelli che ho conosciuto, Chief, Space One, così, Zippo, erano avantissimo. Io, cioè, con loro, nel giro di un anno, imparai tantissimo. Però, poi, quando abbiamo iniziato ad andare alle jam, così, io dicevo, qui c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna. Questa roba si sta chiudendo, mi sembrava più una roba da nerd. Cioè, come adesso, tipo il fan club di Battlestar Galactica. Cioè, che non è neanche famoso come Star Trek o Star Wars, che sono diventati commerciali. Cioè, una roba proprio per pochi. e quindi io ho detto, noi dobbiamo fare delle canzoni ponte. Da qui giustifico, poi, quello che è la scena approvato verso di noi. Perché noi sperimentavamo e eravamo convinti, a volte facendo degli esperimenti giusti, a volte sbagliando, che bisognava mescolare quello che era la musica pop di allora con il rap per riuscire a farlo arrivare in Italia. E quindi, io le chiamo canzoni ponte, no? Tipo, domani è una canzone ponte. Tranky funky neanche tranky, Tranky funky no. Se ci pensi, Tranky funky era una cosa che facevano anche già. Sì, però c'era melodia. C'era melodia. Noi c'eravamo ispirati agli Allianz etnik per fare Tranky funky. Cioè, quindi, però domani è una canzone che c'è la melodia a Sanremese che non c'entra un cazzo con l'hip hop e il rap. Quindi, io anche condivido chi invece ha quell'orecchio e gli diceva Mink, questa roba non è hip hop. Certe cose che abbiamo fatto noi non le puoi definire hip hop, ma devi capire il background culturale che c'era ieri. Va contestualizzato. E perché l'abbiamo fatto? Va contestualizzato. E anche per quello che quelle canzoni hanno fatto quello che hanno fatto. Hanno anche permesso a tutti gli altri di arrivare. Noi abbiamo sfondato le porte spaccandoci le spalle perdendo la nostra credibilità a volte e andando a fare dei sorrisi dove gli altri si potevano permettere di non farla. ma la metafora è questa. Noi abbiamo sfondato una porta ci siamo spaccati la spalla e gli altri sono pazzati con un cocktail in mano perché la porta era già aperta. Questa è veramente quello che è successo. Quindi io adesso capisco anche il discorso di chi ci voleva boicotare perché questa è una ragione. L'altra ragione è che in Italia commercialmente fino a che non c'è stato internet c'era posto nelle radio e nelle tv per un gruppo solo. Cioè loro e la quota rap era un gruppo solo. Quindi se uscivano tre dischi mi ricordo che quando uscirono gli OTR DJ smise di passare noi per passare l'altro disco degli OTR quando uscì Neff con Aspettando il Sole smisero di passare il resto non potevano passare tre pezzi rap nella programmazione questo faceva in modo che noi tutti ci scannavamo perché c'era poco posto. Adesso è ovvio c'è un mercato che invece si è mangiato tutto ed è il karma di quello che l'establishment musicale italiano ha fatto ai tempi il karma ha voluto che il pop adesso se n'è andato a fanculo perché per anni hanno tenuto chiuso questo mondo senza lasciare passare nessuno però adesso li capisco e io credo che le due scene quella commerciale e quella pop in tutti i generi sono sempre servite perché senza quella commerciale poi non arrivano ti faccio un esempio fra i mille i discografici che fanno fare i dischi anche a quelli underground perché vedono che c'è da fare soldi con sta roba quindi buttiamo soldi a cado il discografico mediamente ci capisce poco quindi succedeva anche che andavano a firmare cioè spaccavano i Guns N'Roses facevano i contratti altre 20 euro rock metal band come cazzo si chiamava capito è la stessa cosa adesso con il rap diciamo magari c'è la major che ha una sottoetichetta dove prende prende già chi fa i numeri oggi fare lei è una cosa più facile del mondo non solo chi fa i numeri ma anche chi potrebbe farli che c'è un po' di clout si dice clout esatto sapete una cosa io mi ricordo sempre quando eravamo in macchina noi tre e voi stavate discutendo su che non usare per il gruppo tu che già vi hai addirittura si e non so cosa ci facevamo insieme in macchina voi eravate lì e dicevano ma usiamo questo articolo 31 o meno mi ricordo come avevate chiesto no ci volevamo chiamare articolo 41 all'inizio quello che davano al militare quando per non farti prendere al militare sai la follia eccetera eccetera poi andiamo a fare da supporto no no questa è la storia è la storia che ormai l'abbiamo raccontata così a volte ci credi che è vera ma adesso ci possiamo dire la storia vera non te la ricordi eravamo in macchina io ancora non ero stato chiamato per il militare sai che poi io ho disertato ho fatto il servizio si è fatto il servizio civile tu invece l'avevi già fatto e lei mi ha detto qual è l'articolo che danno ai pazzi per il militare e tu hai detto articolo 31 ok veramente sì allora noi ci siamo chiamati articolo 31 perché io non lo sapevo ovviamente non è che potevamo andare su internet non c'era è vero articolo 31 è vero che flashback è vero perciò non è nato l'irushima perché c'era un gruppo di comici che si chiamavano articolo 41 questo l'aveva scoperto anni dopo articolo 31 e allora abbiamo iniziato a metterci a mettermi ai volanti in articolo 31 poi un giorno il comitato suonava l'irushima al vecchio l'irushima di Torino di Torino e ci apporta siccome Jed portava i piatti siamo andati all'irushima di Torino a fare l'apertura del comitato con i tuoi piatti quando abbiamo finito io ovviamente dicevo articolo 31 articolo 31 di qua articolo 31 al microfono scendiamo arriva questo personaggio si un po' intellettuale era un professore sembrava era una divisa da intellettuale si sembrava una sciarpa ci fa io insegno diritto all'università sapete che articolo 31 nella costituzione irlandese significa libertà di parola dei media noi bella lì ci crediamo e poi libertà di parola dicevamo di tutto ma non è vero neanche questo ho scoperto allora per anni compreso il primo album abbiamo continuato a ripetere perché articolo 31 perché nella costituzione irlandese ma senza mai ceccare senza andare ma è controllare invece c'è questa roba che si chiama qualcosa act questo qua si riferiva a un emendamento fatto per la libertà di praticamente una roba tipo la vigilanza qui da noi che tutela la libertà di parola ai media ma non è nella costituzione è un addendum che hanno fatto in tempi più recenti e adesso qualcuno addirittura lo scrive giusto senza che noi l'abbiamo mai detta giusto qualcuno lo scrive giusto non so se nella pagina di wikipedia qualcuno l'ha corretto e ha messo la roba giusta e praticamente tutto questo per dire che il nostro nome nasce da un errore e guardando la nostra storia non poteva esserci spiegazione migliore cioè che noi siamo fondamentalmente un errore sì mi è piaciuto perché siamo una cosa nata dove in realtà non ci doveva era l'ultima nazione europea dove il rap non era ancora arrivato e non riusciva ad attecchire non aveva un mercato ormai è arrivato a Francia Francia e Germania già facevano i milioni di euro o di lire l'epoca i gruppi tipo e poi c'era anche l'Inghilterra e l'Europa e da noi zero Norvegia Svezia dappertutto tranne che in Italia e quindi c'è dovuta essere questa secondo me mutazione genetica che sono stati gli articolo 31 che tuttora io non definisco prettamente hip hop noi facciamo rap italiano anzi abbiamo contribuito ad inventarlo il rap italiano e tanti di quelli che dicono noi facciamo hip hop e te lo dice uno che va in America da vent'anni ed è sposato con un'americana zio tu non fai hip hop sei un fan dell'hip hop sei un turista no sei un fan dell'hip hop puoi fare bene una disciplina puoi essere il più bravo a scratchare il più bravo a rappare però l'hip hop come lo intendi tu quando dici io sono hip hop no non lo sei ok e rimettersi insieme e non lo siamo neanche noi è l'episodio della macchina però ero con voi forse allora quando avete detto no poi quando tutta sta roba qui eravamo da soli probabilmente a tutti chiedevamo se usia se usia o meno io ho tanti momenti bui in quel periodo vabbè stavano fumando ma poi per dire ok suona bene facciamolo è troppo una figa come Beastie Boys cioè Beastie Boys anche lì c'è un errore nel nome lo sai prima di tutto c'era una ragazza nel gruppo e questi chiamavano Beastie Boys guarda lo dovevo menzare Beastie Boys e in più c'è la parola Beastie dentro no Boys dentro nell'acronimo di Beastie che sarebbe Boys è buona è come se fosse una ripetizione è una ripetizione però concludendo questo discorso forse la vera forza è stata che io venivo proprio da quello che era l'hip hop e lui veniva come vi ha spiegato prima da un'altra situazione unendoci e è venuto a fuori questa cosa che sono alla fine gli articoli 31 che si sono rimessi insieme adesso rifanno musica ancora e com'è rifare musica dopo tutto questo tempo strade diverse rincontrarsi sedersi in studio è più consapevolezza più divertimento c'è più pressione più pressione io posso dire che la riunione a livello umano c'è stata nel 2018 poi avendo ottenuto i risultati che volevo anche con i miei dischi solisti ho detto quando Jed mi ha fatto sentire tipo 100 basi 4 5 mi hanno fatto venire il brivido ho ripercorso quel periodo riguardandoci anche con più tenerezza con più comprensione e poi sai nella vita alla fine proprio l'essere umano tende poi a non so se è perché pesano di più i ricordi belli che quelli brutti ma alla fine sulla bilancia i ricordi belli hanno sorpassato di brutto quelli brutti quindi con molta tranquillità e con divertimento senza nessun tipo di pressione stiamo facendo questa cosa e scoprendo anche come quest'estate abbiamo scoperto che le nostre canzoni nel frattempo sono andate avanti per i cazzi loro perché noi anche ai tempi di così com'è cioè il nostro disco di diamante del 1996 avevamo riempito due forum non quattro come questo giro quindi cioè è incredibile anche questa cosa scoprire che per tanti le nostre canzoni hanno continuato a vivere quando magari per noi erano anche un po' messe da parte certo sì poi la cosa la cosa bella vedere veramente pubblico giovane pubblico che della nostra età che venivano ai tempi a vederci con i figli capito cioè è bello perché comunque come appena detto AXA abbiamo comunque trasmesso a varie generazioni e soprattutto anche delle canzoni non pensavamo che sarebbero diventate tra virgolette delle hit non a livello nazional popolare ma proprio per il nostro pubblico tipo Gente che spera e tanti altri brani vuol dire tanto vuol dire che le radici che si hanno avuto all'inizio hanno dato dei frutti ancora oggi e li si vedono anche nel rapporto che avete con gli altri musicisti della scena della musica italiana in generale per cui probabilmente anche nel costruire un disco mettersi intorno delle persone è un atto bello di trovarsi e fare musica assolutamente noi per questo disco ad esempio avremo dei grandi ospiti che ora non ti svela però siamo siamo a volte anche allibiti da come da quando scopriamo che anche chi fa magari totalmente un altro genere è stato fan degli articoli 31 politici compresi classe politica emergente nuovo poi Ignazio Larussa un grande fan immaginavo proprio lui tra l'altro e tra l'altro credo che con lo spirito di essere grampi sia da giovani che da vecchi che avere quella quella voglia di ribellione necessaria è bello che rimanga il giorno d'oggi no? cioè perché si può essere dei cinquantenni incazzati ma guarda incazzati o meno l'importante è mantenere il pensiero critico cioè noi non siamo mai stati dei ribelli così sempre su tutto cioè abbiamo sempre però mantenuto il nostro pensiero critico cosa che a volte ci ha fatto identificare come gente di destra a volte come gente di sinistra tipo mi ricordo mi sa che l'ho messo anche in una nostra rima tipo picchiato sia dagli autonomi che dai nazi skin la nostra adolescenza è stata quella cioè io scappavo dagli skin e dagli autonomi i centri sociali cioè in qualche modo non andavo bene a nessuna delle due parti probabilmente perché riuscivo a trovare in tutte e due le cose va bene la skin non è difficile però anche negli autonomi dicevo scusa ma tu perché mi devi dire che poi specialmente qua a Milano che io non devo fare i soldi con il rap che so che tuo papà è tipo uno di confindustria ma che cazzo vuoi da me no? io sono un proletario veramente e quindi avevamo sai è stato un momento molto difficile per noi sì è bello che la musica l'hip hop e il rap ti mettano più domande che rispostano dentro e in base a quelle domande tari il tuo pensiero che è sempre un pensiero un po' laterale perché quando prendi gli schiaffi da tutti devi per forza pensare a te stesso a come la pensi veramente quindi è una bella maniera di trovarsi a discutere delle cose anche di far rimanere giovane sì guarda poi più cresci più cioè io penso che il nostro lavoro ci abbia dato anche ad esempio l'opportunità di non dovendo ammazzarsi in fabbrica otto ore al giorno anche di studiare leggere informarsi e un po' diventare non voglio dire più acculturati però sono un altro più consapevoli della nostra storia oggi secondo me l'hip hop è più di tutti rispetto a quando abbiamo iniziato noi c'è una pecca secondo me della nostra generazione è quello di aver fatto appropriazione culturale e orgogliosamente dico che gli articoli 31 l'hanno fatta almeno possibile anch'io mi scuso di aver indossato un durag ad esempio no mi scuso perché appropriazione culturale ma io non sapevo che cosa servisse il durag lo vedevo in copertina nei miei idoli e lo facevo e penso così tanti come me però non ho mai tradotto letteralmente tipo what what queste cose non mi sono mai tirato su un pantalone uno su uno giù della tuta capito certe cose non le ho fatte però a un certo punto mi sono fatto i dread altra appropriazione culturale forse era anche perché noi non volevamo far parte della nostra razza ci vergognavamo oggi avere capito che il colonialismo non si è fermato solo alla conquista dei territori ma anche la ruberia che i bianchi hanno fatto è anche stata fatta sull'arte e sui generi musicali e quindi questo mi fa guardare tutto con un'altra prospettiva oggi che è veramente di tutti che tutti si possono formare io vedo il mio figlio a sei anni ascolta Rap God di Eminem tutti i giorni come gli va a spiegare che Eminem si è potuto permettere di crescere in un determinato ambito anche per la storia personale che ha avuto tutto questo discorso non avrà più tanto senso oggi in poi perché è tutto nelle device di ognuno però devo dire che c'è stato anche una roba molto politicamente scorretta ma non lo sapevamo quindi in un certo senso dovremmo anche renderci conto che noi siamo stati un po' colonialisti non siamo stati degli eroi ecco siamo stati anche dei colonialisti e quindi restituire quello che abbiamo preso lo dobbiamo fare perché è una cosa importante per il karma ma è anche importante perché come i Beatles rubarono gli standard ai gruppi rock and roll neri degli anni 50 40 anche noi che dall'altra parte del mondo abbiamo preso e saccheggiato la musica nera americana dobbiamo rendercene conto comunque pagare il tributo significa semplicemente ammetterlo e dirlo e quindi soprattutto non dire noi siamo dei maestri non siamo dei precursori di nulla noi inconsapevolmente abbiamo fatto del colonialismo musicale come tutti gli altri che hanno fatto il nostro movimento che però aggiungo dal mio modesto parere è un motivo di orgoglio perché comunque io tenevo tantissimo che arrivassi a più gente possibile rap li pop la cultura chiamalo come vuoi ci tenevo tantissimo e sono felicissimo che ci sono dei bravissimi MC dei bravissimi producer cioè siamo a un livello altissimo siamo arrivati ad un livello altissimo perciò la mia mission è stata compiuta ma tu puoi permettere di parlare lo sai più di me e più dei rapper lo sai perché perché tu a tutti questi gruppi che noi abbiamo saccheggiato almeno gli hai dato i soldi dei vinili che gli hai comprato hai capito no non è abbattuta no no non è abbattuta questa è una roba che ho sentito dire anche Ice One quando si si parlava del diritto di campionare però io il disco te l'ho pagato tu puoi dire che è tuo quanto vuoi è un discorso che non torna capito io te l'ho pagato quindi tu puoi parlare più di altri perché comunque hai contribuito al sostentamento di questi artisti io di me non mi facevo fare le cassette da te però è stata una dura lotta sin dagli inizi parliamo dai dei primi anni 80 a far capire arrivare poi con il gruppo articolo 31 a far capire cos'era il rap tutte queste cose qui è stata una dura lotta ma lo è tuttora perché ancora non l'hanno capito secondo me adesso siamo arrivati pensa che siamo arrivati a un punto dove al posto del calciatore degli anni 90 c'è il rapper adesso il rapper ha l'immaginario del calciatore ed è la musica più ascoltata poi che poi si attrappa chiamala come vuoi e tutti sono convinti che i rapper guadagnano milioni tutti milioni di euro tutti li hanno guadagnati sono tutti convinti è così è vero e tanti rapper o trapper quello che vuoi ci marciano anche sopra danno questo immaginario perché comunque fake it till you make it come dicono fai finta finché non ce la fai è allucinante ci penso è veramente ironico da queste cose bene ragazzi grazie davvero per le chiacchiere in bocca al lupo per la costruzione del disco grazie a Elle alleanza latina come dicevamo nel disco guarda qua la rima alleanza latina dicevo così la mila alta che figa anche si era nata per voler fare già all'epoca qualcosa di italiano si meno meno come si chiama cultural appropriation possibile quindi alleanza latina ignoranza invidia ipocrisia potrebbe essere ignoranza latina grazie a voi ragazzi grazie a Elle e spaccate tutto come sempre grazie a tutti